Il brusco abbassamento delle temperature e la proroga dell'allerta meteo tengono in ostaggio gran parte della Campania, non solo nelle zone interne della regione, in particolare Sannio e Irpinia, oltre che nel Salernitano, ma anche non lontano dalla costa. Come nel caso della cima del Vesuvio, ormai da giorni imbiancato, ad Ischia non c'è pace per Casamicciola, dove 400 persone sono state evacuate e fiumi di fango hanno invaso nuovamente le strade. Chiusa la statale 270 per rischio crolli, gli sfollati potranno rientrare domani. Oltre 45 centimetri di neve in alcuni comuni dell'Alta Irpinia, che sono rimasti per quasi 20 ore senza energia elettrica. I problemi maggiori nell'area di Ponte Romito, dove è stato necessario un generatore per tamponare l'emergenza. La neve ha chiamato in questi giorni i vigili del fuoco e operai dell'ANAS a un lavoro extra per il repristino della viabilità sull'Ofantina, che domani, lunedì, dovrebbe riaprire al traffico. Nel Casertano continua il calvario di alcune famiglie rimaste intrappolate all'interno delle rispettive abitazioni circondate dall'acqua del fiume Volturno e sondato ormai da 36 ore. Gli abitanti di Capua e del destra Volturno sono stati finalmente messi in salvo con l'utilizzo dei gommoni. Situazione complessa anche in provincia di Benevento, la neve è caduta copiosa nell'area del fortore, oltre che sul Matese nella zona del Taburno e sono stati registrati degli smottamenti nelle zone di Faicchio, Melizzano e Apice.